Voglio un centrosinistra unito, con fava e senza Alfano. E' così che Simone Di Paola, che del Partito Democratico non è certo l'ultimo arrivato, bensì il capogruppo al Consiglio Comunale, su Facebook ha scatenato il putiferio. Con una riflessione a voce alta in cui contesta apertamente l'orientamento del PD di allontanare l'ala sinistra di una coalizione che rischia di essere altro, un commento, quello di Di Paola che si inquadra nell'ambito del dibattito regionale che vedrà ancora una volta democratici e sinistri andare su strade diverse. Io penso che se a sinistra del PD si organizzano movimenti, associazioni, soggetti anche di grande autorevolezza che non si riconoscono più nella politica del PD, non si riconoscono più nelle strategie e nelle alleanze che il PD propone e parlano ad un mondo che all'inizio dell'esperienza del PD lo avevano salutato come una grande manifestazione di rinnovamento della politica a sinistra, c'è un problema e noi l'abbiamo visto a sciacca. Quante mizzi che dovranno nascere ancora prima di renderci conto che il PD deve tornare a parlare di più e meglio con questo mondo, tornare a far sì che questo mondo si senta rappresentato dal PD. Ma Di Paola tiene a precisare che lui è leale col suo partito. Io devo dire che rimango stupefatto perché non pensavo che una riflessione a voce alta di un umile militante del PD, che nel PD ha scelto di militare, che resta nel PD e che a scanzo di equivoci sosterrà il candidato del PD, potesse scatenare questo putiverio. Se tu sei titolare di un'identità politica forte e sei nel tuo partito, rimani per difendere le tue ragioni, non vai via e crei ulteriore divisione, perché la divisione oggi in Sicilia come in Italia agevola proposte politiche che sono alternative e ostili al centro-sinistra. Simone Di Paola definisce marmellate immonde le coalizioni fatte con quelli da lui indicati come esponenti del peggior centro-destra post-berlusconiano. E' anche vero che la storia ci dice che i cespugli, così come furono battezzati, fecero cadere due governi di centro-sinistra. Esattamente quello che dico io. Se noi continuiamo ad alimentare queste divisioni, i primi a pagarne il prezzo siamo noi. E allora io penso che in un momento nel quale in Sicilia c'è un grande dibattito, io non sono il solo che si pone questi temi, c'è un grande dibattito politico sui confini dell'alleanza di centro-sinistra, io penso che il Partito Democratico debba porsi il tema di recuperare il filo di un ragionamento e di un dialogo non tanto con le classi dirigenti della sinistra, perché io sono convinto che alcuni di quelli che se ne sono andati lo hanno fatto con un obiettivo ben preciso e la divisione è strumentale e funzionale ad un obiettivo preciso, ma con un mondo fatto di militanti, fatto di elettori, fatto di soggetti che per tradizione si riconoscono nel centro-sinistra che devono tornare a credere nel Partito Democratico. Così poi Di Paola definisce la decisione di Rosario Crocetta di farsi da parte per lasciare spazio a Fabrizio Micari. Una decisione saggia, molto saggia. Crocetta ormai non era più né nel cuore né nella testa di nessun militante del centro-sinistra.